Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Il CGA ha disposto il commissariamento della regione Sicilia per l'indizione di nuove elezioni regionali nelle nuove sezioni di Pachino e Rosolini. Si andrà alla ripetizione del voto nelle nuove sezioni di Pachino e Rosolini in cui non è stato possibile certificare la rispondenza del voto. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha di fatto commissariato il presidente della regione Sicilia Crocetta che dal febbraio scorso avrebbe dovuto indire la ripetizione delle elezioni regionali con il coinvolgimento dei parlamentari regionali siracusani. Secondo quanto è imposto dal CGA se entro dieci giorni non verranno indette le elezioni in quelle nuove sezioni di Pachino e Rosolini dovrà pensarci il prefetto di Siracusa Gradone nel ruolo appunto di commissario ad acta. La decisione presa dai giudici di appello del CGA è arrivata dopo che in un primo provvedimento erano state annullate le consultazioni nelle sezioni oggetto alle contestazioni per vizi formali. Un punto a favore quindi dell'ex deputato regionale Pippo Gennuso che questa mattina ha incontrato la stampa per spiegare nel dettaglio quanto disposto dal CGA. Gennuso come si ricorderà aveva denunciato la sparizione delle schede per le quali il CGA aveva disposto il riconteggio ed una verifica in occasione delle elezioni regionali del 2012 di alcune schede elettorali. Dalle indagini effettuate dai poliziotti e la sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Siracusa è emerso che quelle schede sono state ritrovate. Malgrado questo il CGA ha disposto che vengano ripetute le operazioni di voto. Il CGA ha colto il nuovo ricorso presentato all'avvocato Girolamo Rubino nell'interesse di Salvatore Midolo, un candidato non eletto nell'MPA. In quell'occasione, alla luce di queste novità, le elezioni potrebbero essere ripetute ad ottobre prossimo. E noi su questa vicenda non potevamo che ascoltare l'ex deputato regionale Gennuso. La giustizia che il Consiglio di giustizia amministrativa ha sancito in diversi passaggi la legittimità di questo voto e oggi siamo contenti perché siamo stati molto attenti e abbiamo avuto l'induito che quelle sezioni potevano essere annullate per ritornare al voto. Sente soddisfatto del fatto che all'inizio magari l'avessero presa per un pazzo, sembrava l'unico a crederci che c'era qualcosa che non andasse? Ma i pazzi sono quelli che non ci hanno creduto perché a mio modo di vedere non è che si impronta un ricorso su area fritta, abbiamo improntato un ricorso su precedenti e su sentenze che già c'erano precedentemente. Ci sono tante sentenze del Consiglio di Stato, tante sentenze del CGA, di altri CGA, sentenze di tarre di diverse regioni che potevano sicuramente legittimare quelle incongruenze, quelle problematiche che abbiamo portato avanti e che alla fine ci hanno dato il Regione. Hai fatto un'idea di che cosa sia successo? L'idea di quello che sia successo ancora non l'ho capito perché ci sono state tante versioni e perché io volevo un ricorso dove si andava a contare il voto e non volevo questo tipo di ricorso, vincere questo, ma volevo vincere un ricorso per la conta dei voti, volevo contare i voti, quel ricorso non si è potuto fare perché il prefetto di Siracusa ha detto non posso fare la verificazione perché mancano i plichi elettorali, manca la busta 4R essenziale per fare la verificazione, manca la busta 5R essenziale per fare la verificazione. Non abbiamo potuto fare la verificazione per la conta dei voti e poi abbiamo assistito a tutte queste telenoveli di schede che sono state portate in discarica, schede che si sono state rubate, schede che sono state ritrovate e allora non ci ho capito finalmente un bel niente. Oggi ancora alla confusione penale, perché quella è un'attività penale, è una posizione molto confusa, diversamente chiara la legittimità del Consiglio di Giustizia amministrativa che a livello amministrativo ha legittimato il voto in quella sezione. Sarà istituita una task force per il monitoraggio del pagamento dei fornitori, questa almeno è la proposta lanciata dal neoassessore al bilancio Gianluca Scrofani. Sarà istituita al comune di Siracusa una task force per il monitoraggio del pagamento dei fornitori per mantenere l'amministrazione al passo con i tempi previsti dalla legge. Lo ha annunciato il neoassessore al bilancio Gianluca Scrofani, il quale ha partecipato ieri sera alla seduta del Consiglio Comunale. Scrofani ha poi parlato della necessità di ridurre le spese della politica e della volontà di investire risparmi sui servizi. La seduta del civico consesso però si è imperniata sulla presa visione di un debito fuori bilancio a carico delle casse del comune. Prima della votazione, da parte dei consiglieri Princiotta, Sorbello e Castagnino, erano stati sollevati dubbi procedurali sull'iter di approvazione del punto cui aveva risposto il segretario generale. Il debito fuori bilancio ammonta ad oltre 440.000 euro che fa riferimento all'espropriazione dei terreni per la realizzazione della scuola media Vittorini in Vialetica. Sul punto il consigliere Burti aveva chiesto di individuare dei responsabili e le cause dell'enorme crescita degli interessi maturati per la mancata transazione. Il consigliere Castagnino ha comunicato il mancato inserimento dei comuni del distretto sociosanitario 48 nella graduatoria per l'accesso ai fondi PAC, il piano d'azione e coesione. Si è confermato, ha detto Castagnino, questo che farebbe mancare a Siracusa i finanziamenti pari a 3 milioni di euro destinati agli anziani e ai minori. L'assessore Antonio Grasso ha invece auspicato un miglioramento della dinamica dei rapporti tra giunta e consiglio, visto che questa attività rientra tra le sue deleghe ed ha accennato anche alla volontà dell'amministrazione di rivedere le politiche sul decentramento. Intanto il consiglio comunale torna in aula questa sera alle 19. Ieri al momento della votazione del primo punto all'ordine del giorno era venuto a mancare il numero legale. I comuni del distretto sociosanitario 48, parliamo di un intervento da parte dell'assessore ai servizi sociali. L'Ido Schiavo, il comuni del distretto sociosanitario 48, quindi anche Siracusa, non sono fuori dalla graduatoria per l'accesso ai fondi PAC. Non rispondono a verità, quindi sostiene Schiavo le voci di mancati finanziamenti che possono mettere a rischio l'erogazione dei servizi di cura per anziani e minori. L'intervento di Schiavo segue all'allarme lanciato ieri in aula dal consigliere Castagnino. Nessuna esclusione, continua ancora Schiavo, ma solo la richiesta da parte dell'autorità preposta di una rimodulazione di alcuni conteggi sui quali da qualche giorno gli uffici sono già a lavoro. A Schiavo risulta che a breve dovrebbe esserci una comunicazione, in tal senso da parte dell'autorità prefettizia. Il Movimento 5 Stelle e i Grille R2 6 questa mattina hanno parlato di gioco d'azzardo, di ludopatia e hanno chiamato letteralmente in causa lo Stato italiano. Sentiamo perché. Un convegno contro il gioco d'azzardo e le ludopatie che mette lo Stato sul tavolo degli imputati è un'iniziativa del Movimento 5 Stelle di Siracusa. Uno Stato complice del gioco d'azzardo, ma come diciamo noi il gioco d'azzardo è anche comunque un movimento, o meglio un problema sociale e anche culturale. Quindi sarebbe un errore quello di andare a individuare il gioco d'azzardo solo come patologia. Bisogna operarsi e attivarsi a 360 gradi. Quindi il problema è a monte, è politico, ma è anche culturale, è sociale, è anche un problema territoriale. Perché se vogliamo il gioco d'azzardo oggi sta consumando quello che è territorio. Mi vengono in mente per esempio i luoghi di aggregazione giovanili, come potevano essere una volta i bar, passati appunto da luoghi di consumo a luoghi di consumo di gioco d'azzardo. In qualche modo quindi voi avete pensato di inserire una sorta di bastone tra le ruote in questo meccanismo. Cosa si potrebbe fare? Allora consideri questo. Già noi come Movimento 5 Stelle stiamo facendo a Roma delle proposte di legge, tra cui avremo anche ospite il primo firmatario di questa proposta di legge che è Massimo Enrico Baroni e Giulia Grillo che sono della Commissione Affari Sociali e quindi stanno proponendo delle alternative, quindi delle soluzioni per risolvere questa problematica. Avremo anche il presidente dell'Associazione Indipendenza di Siracusa che è il dottor Paolo Bonarrio, Antico Moccia che è uno scrittore che ha scritto diversi libri riguardo questa problematica, questa patologia e quindi stiamo cercando di sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica perché è una vera e propria malattia. Inoltre abbiamo mandato anche l'invito al sindaco e a tutta la giunta comunale per cercare di combattere assieme quello che potrebbe essere e quindi trovare insieme delle soluzioni. Un incontro tra il sindaco di Siracusa e il direttore generale dell'Asp Brugalette. è stato ricevuto, so di avere un compito importante e di avverto tutta la responsabilità dice Brugaletta di dover dare le giuste risposte attese dalla cittadinanza. Si è concluso con la condanna di tre funzionari della motorizzazione civile di Siracusa il processo nato dall'operazione Patenti Facili coordinate dalla Procura. Pretendevano una somma di denaro per il buon esito degli esami per il consigliamento della patente di guida ad ogni allievo di autoscuola. Un'accusa formulata dieci anni fa dalla Procura di Siracusa che ha retto all'esito dell'istruttore dibattimentale. Il processo a carico di quattro funzionari della motorizzazione civile di Siracusa si è concluso infatti con la sentenza di condanna a carico dei tre dei quattro imputati. La condanna a cinque anni e mezzo di reclusione è stata erogata dal Tribunale Penale di Siracusa a carico di Salvatore Zeferino e di Sebastiano Ambrogio, entrambi funzionari della motorizzazione civile del capologo. Cinque anni sono stati inflitti all'altro funzionario della motorizzazione Salvatore Ortisi. I tre imputati erano accusati di concussione mentre una quarta funzionaria della motorizzazione immacolata Cimino è stata mandata assolta perché il fatto non sussiste relativamente al reato in rivelazione di segreto d'ufficio. Una sentenza di assoluzione è stata emessa invece nei confronti di altri sei imputati i quali dovevano rispondere a vario titolo di falsa testimonianza perché in occasione di un terrecatorio in procura avrebbero negato di avere pagato somme di denaro per ottenere esiti favorevoli delle pratiche per l'ottenimento e la patente di guida per i loro clienti. L'inchiesta della procura di Siracusa è culminata il 17 gennaio 2005 con un blitz della polizia stradale che arrestò i quattro funzionari mentre fu disposta all'interdizione per due mesi dalla professione per l'architetto Calogero Prato, allora direttore della motorizzazione civile di Siracusa e dall'attività imprenditoriale per cinque titolari delle autoscuole. Le indagini coordinate all'allora procuratore capo Roberto Campisi furono eseguite dagli uomini della polstrada di Siracusa. Ha riguardato un periodo compreso del 2003 e il 2004. Secondo quanto ricostruito agli investigatori i funzionari addetti agli esami avrebbero preteso il pagamento di 50 euro per ciascun allievo di autoscuola per consentire loro di superare l'esame e quindi di ottenere la patente di guida. Il collegio difensivo ricorderà in appello sull'intero processo comunque a legge la prescrizione. Adesso noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, per ora restate con noi nella seconda parte e tante altre cose. Vi daremo conto anche delle novità, ricorderete, che riguardano l'omicidio Miconi. A tra poco. Scavolini Store, Pozzallo e Siracusa, svuotiamo tutto! Sotto costo oltre 30 modelli di cucina Scavolini! Svuotiamo tutto per rinnovo locali! Scavolini Siracusa, viale Scala Greca, Scavolini Pozzallo, viale Europa! Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Saloni, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre avvigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 40% su tutto il reparto avvigliamento. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile e guarda che cromature! Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris! Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406-A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Se hai tante idee per la testa, tuffati nella creatività e accendi la voglia di Fai Da Te. Offerte valide fino al 27 luglio. Ventilatore da soffitto 4 pale 29 euro. Piscina in PVC struttura in metallo 99 euro. Tubo magico con pistola multifunzione allungabile fino a 15 metri 19 euro. Tosa erba elettrico 49 euro. Barbecue a carbonella 65 euro. Box doccia angolare in cristallo temperato 189 euro. VC più bidet in ceramica bianca 59 euro. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino presso il parco commerciale Belvedere. La grande stagione lirica al Teatro Greco di Siracusa e al Teatro Antico di Taormina con il maestro Enrico Castiglione. A Siracusa Aida di Giuseppe Verdi il 12, 19 e 26 luglio. A Taormina Cavalleria Rusticana e Pagliacci di Pietro Mascagni e Ruggero Leoncavallo il 2 e 4 agosto. Tosca di Giacomo Puccini il 9, 11 e 13 agosto. Il Ratto dal Serraglio di Mozart il 6 settembre. Costumi di Sonia Cammarata. Regia e scene di Enrico Castiglione. Biglietti in prevendita circuito box office Sicilia. Quest'estate vi aspetto a Siracusa e a Taormina. Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale La Cronaca. Il giudice monocratico del Tribunale di Siracusa Giuseppina Storaci ha inflitto la condanna a due anni di reclusione a carico del siracusano Giuseppe Scordino per droga. Il 28 aprile scorso l'uomo è stato sorpreso dalla polizia della mobile Mia Marco Costanzo mentre stava cedendo alcune dosi di cocaina ad alcuni assuntori. Gli sono stati sequestrati 4 grammi e mezzo di droga. Ha scelto di essere processato con il rito abbreviato Niki Nonnari, l'autore reo confesso dell'omicidio del 22enne Salvatore Miconi. Avrebbe dovuto svolgersi quest'oggi dinanzi al GUP del Tribunale di Siracusa il processo con il rito immediato come richiesto dal PM Claudio Delitto a carico di Niki Nonnari, il ventenne accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione ai danni del panettiere siracusano Salvatore Miconi. Ma il processo è slittato al prossimo autunno perché la difesa dell'imputato ha scelto il rito abbreviato. La nuova udienza quindi al cospetto del GUP Alessandra Gigli è stata fissata per il 28 ottobre prossimo. La posizione dell'imputato è quella di autore dell'omicidio e reo confesso. Niki Nonnari ha infatti ammesso di avere sferrato una coltellata al petto del panettiere la sera del 20 dicembre scorso in occasione dei festeggiamenti per l'ottava di Santa Lucia. Al GIP che lo ha interrogato Nonnari ha riferito di non avere avuto alcuna intenzione di uccidere l'ex amico. L'imputato sostiene che la sera del delitto avvenuto come si sa in largo 25 luglio sarebbe stato cerchiato e aggredito da alcune persone tra cui il panettiere che a suo dire gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto, temendo per la propria incolumità avrebbe estratto alla tasca un coltello da cucina colpendo al petto Salvatore Miconi spinto da altre persone che lo avevano cerchiato. Nonnari ha spiegato di aver avuto con sé il coltello perché circa un'ora prima dell'omicidio era stato aggredito verbalmente da alcuni pescatori amici del Miconi in piazza Pancali minacciandolo di ammazzarlo. Nonnari ammette di aver avuto dei contrasti con il panettiere per questione di natura personale. La procura contesta a Nonnari l'aggravante della premeditazione che qualora ritenuta sussistente potrebbe determinare la condanna all'ergastolo per l'imputato malgrado la scelta del rito alternativo. Immagini indubbiamente dure per i parenti del ragazzo. Andiamo avanti, questa notte intorno alle 2.40 agenti e le volanti sono intervenute in Viale Ermocrate per la segnalazione di un poni che stava vagando per strada creando problemi alla circolazione stradale sul posto gli agenti, l'hanno avvicinato, l'hanno allontanato, dopodiché l'intervento anche del veterinario che ha controllato lo stato di salute dell'animale. Venti di crisi al Comune di Lentini ieri sera erano soltanto 5 dei 12 consiglieri di maggioranza a presentarsi in aula per votare il rendiconto del bilancio 2013. Crisi aperta al Comune di Lentini pare proprio di sì. Dei 12 consiglieri comunali che sostengono il sindaco Alfio Mangiemeli infatti ieri sera solo 5 consiglieri si sono presentati in aula per votare il rendiconto del bilancio 2013 varato dall'amministrazione comunale. I lavori consigliari in mancanza del numero legale dalle ore 19.30 sono stati rinviati alle ore 20.30 ma questa volta a rispondere all'appello sono stati i consiglieri di minoranza e 5 rappresentanti della maggioranza su 12 consiglieri comunali. Il consiglio comunale quindi dopo aver affrontato ed espletato il primo punto all'ordine del giorno viene sospeso per 10 minuti su proposta del consigliere Biagio Portal nel tentativo di capire cosa stesse accadendo tra le fila della maggioranza. Alla ripresa dei lavori però il presidente del consiglio comunale è costretto a rinviare la seduta questa sera per mancanza del numero legale considerato che i 5 consiglieri di maggioranza avevano deciso di abbandonare l'aula. Si riuscirà questa sera a votare il rendiconto del bilancio 2013 a causa dei venti di crisi che soffiano sul Comune di Lentini? Si è spento a 99 anni Aurelio Carpinteri, il floridiano, l'ultimo sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti. Si è spento un altro pezzo di storia floridiana. Si tratta di Aurelio Carpinteri, Utsu Aurelio per tutti i floridiani, nato nella nostra cittadina il 12 settembre 1915, uno degli ultimi sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. Nel marzo del 1944 fu catturato a Torino e deportato in Germania. Venne internato nel campo di concentramento di Mauthausen e destinato al lavoro coatto per l'economia della guerra. Della sua dolorosa esperienza ha dato in diverse occasioni testimonianza ai ragazzi delle scuole e a tutti quanti non vogliono dimenticare quello che accadde durante la Shoah. Proprio lo scorso anno, ricorda il sindaco Grazio Scadorino, il 2 giugno 2013, nella ricorrenza della Festa della Repubblica, a seguito di un'urgente richiesta dell'amministrazione comunale proprio in considerazione della sua età avanzata, il prefetto di Siracusa Armando Gradone gli consegnò la medaglia d'onore, consegna che di regola avviene il 27 gennaio nella giornata memoria. Ero presente alla cerimonia ed è stato un momento molto commovente. La scomparsa di questa figura, a cui tutti i floridiani erano affezionati, lascia un vuoto nella nostra comunità, ma ciò ci impegna ancora di più a non dimenticare la più grande tragedia del Novecento e a coltivare i valori della tolleranza e del rifiuto di ogni forma di discriminazione e persecuzione. Un premio, un premio, il premio Tonino Accolla che va di pari passo con Da qui all'eternità sulla ricerca sul tumore al pancreas, un premio che ricorda una delle più belle voci italiane è quella del siracusano doppiatore. Tonino Accolla. Un evento particolare che parla di musica, di balletto, ma soprattutto anche di solidarietà con una iniziativa di beneficenza e vuole ricordare una delle grandi voci del cinema italiano non soltanto. Un siracusano, Tonino Accolla. Sì, proprio nasce dell'intento non solo di promuovere la ricerca sul tumore, sul carcinoma pancreatico, quindi diciamo un tema dove si esprime la nostra sensibilità che purtroppo sta a noi molto a cuore, che portiamo avanti, ma soprattutto era un modo per collegare quello che è il nostro progetto, che è il progetto Da qui all'eternità, che quindi ci vede molto attivi sul territorio siciliano nel creare eventi che riescono a coniugare arte, musica, cultura e sport, proprio per promuovere le più variegate espressioni dell'essere umano. Per quanto riguarda la parte dell'evento, quindi la parte artistica, avremo noi un ospite particolare che sarà il doppiatore Alberto Pagnotta, una persona che è definito come un talento nel mondo del web, il talento delle mille voci, colui che da anni imitava un po' quelle che erano le varie voci che doppiava Tonino Accolla, designato come colui che dovrebbe continuare un po' la strada che ha lasciato Tonino Accolla. Alberto Pagnotta ha realizzato un tributo video che porterà qui da noi questa serata e in più farà anche un suo spettacolo e ci delizierà con le mille voci di Tonino Accolla in definitiva. Sì, e ancora una volta Siracusa cerca di celebrare la memoria di siracusani che hanno reso diciamo lo Siracusa celebre, in questo caso uno straordinario doppiatore che noi tutti ricordiamo con grande affetto, una nuova occasione anche di fare spettacolo e intrattenimento in un'estate che è sempre più ricca di attrazioni. Da tempo lei diceva che vorrei che mio figlio fosse ricordato in maniera particolare, questa è un'occasione per ricordare una delle più belle voci del cinema italiano. Speriamo bene. Cosa significa questo premio per lei e quindi in memoria di suo figlio? Significa vedere mio figlio sempre presente. È stato ricordato abbastanza, lei spesso ha detto si potrebbe fare molto di più. Si potrebbe fare di più, purtroppo è andata così. Il fatto che però mettano una targa in sua memoria. Devo ringraziare il sindaco e l'aggiunta comunale tutta che è passata questa proposta per una targa a largo 25 luglio, in modo che lì lo leggono tutti e viene ricordato. Bene è tutto, era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Si conclude qui, noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.